Siamo a Piazzale Fior di Loto a San Gordiano, insomma la situazione la vediamo, cassonetti pieni, ci diceva da tantissimo tempo che non vengono svuotati, ci spiega un po' qual è la situazione? La situazione è questa qui, che noi da quando hanno messo questi secchi, perché prima noi avevamo messo laggiù, poi sono dei vigi, ce l'hanno fatto tolto perché lì non ci potevano stare, non lo capite perché non ci potevano stare, allora qui stanno bene, sotto il porticato dove c'erano i bambini, dove c'è stata gente, diciamo qualcuno che sta male, è tutta la puzza, sono mesi, dal mese di luglio agosto che non si riesce a far togliere questa immondizia, se questa è un'indecenza, a volte vengono, ma tolgono un secchione, ma tanto questo rimane sempre, perché se vedete giù in fondo i secchioni, questa è immondizia che non sappiamo più dove buttare, andavamo a buttare, buttavamo a mezzo alla strada. Avete provato a chiamare chi di dovere? Ho chiamato l'amministratore e fare l'orecchio da mercante, abbiamo chiesto anche al comune, ho telefonato anche al sindaco, ho chiamato anche al sindaco, io mi avevo dei messaggi, ho detto provvediamo, 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 ma tanto ecco qui, questo è il risultato, rimane sempre così, allora noi che dobbiamo fare? Da dobbiamo buttare questa immondizia, per colpa di qualcuno, per colpa di qualcuno, purtroppo noi ne paghiamo le conseguenze, perché io l'ho differenziato come qualcun altro, come questo amico, facciamo la differenziata, andiamo a buttare bottiglie dove si devono buttare, nella campana, va bene? Però c'è qualcuno che tutte queste cose qui non le fa. Non è roba di un giorno, di un giorno, questa è una roba di mesi, di mesi, di mesi, di mesi, oggi svuotano i cassonetti e dopo mezz'ora è un'altra volta pieno, poi lo buttano dall'altra parte, lo buttano dal palazzo, capito come funziona qui? Magari poi pure le scopine, giustamente loro dicono, io vedo una bottiglia di vetro nell'identificio e non ti la ritiro, vedono una plastica dentro la carta e non ti la ritirino, poi qua c'è stato tutto di più, vestite, stracce, cose. Quindi rimane tutto così? Rimane sempre in questa maniera qua, non cambia niente, dal mese d'agosto non è cambiato niente, anche perché giorni fa a me mi è arrivato 360 euro dell'immondizio da pagare. Perché non si spostano quelle secchione se mettono a quell'angolo laggiù in fondo, dove non dà fastidia a nessuno? Cioè, perlomeno le persone che abbono in questo palazzo qui non rispirino tutta quella puzza che c'è sta. Io questo volevo dire, si spostano quelle secchiose, mettono giù, almeno bella vista d'occhio, lo mettono tutte e ogni tanto magari vengono e le vengono a togliere. Noi facciamo appello che ci venga aiutato il prima possibile qui a risolvere questa situazione, perché sennò qua è diventata una cosa insostenibile. Una discarica. Una discarica a cielo aperto, lì sotto, qua davanti, cioè è diventata per davvero, non una discarica, peggio, animali, surci, topi, di tutto e di più c'è sta. Grazie.